Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso Tibi Sport. È una giornata molto lunga per i tifosi del Bari che vivremo insieme, insieme con te le Bari, perché non solo il Tibi Sport, questa sera anche il 91esimo minuto, sperando di potervi raccontare l'approdo del Bari alle semifinali dei playoff. Anche perché io vorrei ritrovare già nei prossimi giorni il professor Antonucci, altrimenti andiamo in vacanza, professor Antonucci, o no? Ma no, io spero di no, anche perché, vedi, ti voglio fare una questione cronologica. Io sono venuto qua col Tassi. Il Tassi Naro, una bravissima persona, oltre che super tifoso del Bari, si chiama Bartolo, mi ha detto, mi ha fatto una confidenza, pensando che non la sapesse. Ce lo sai che oggi è il compleanno del presidente del Bari? Ah, gli facciamo gli auguri, sì. Chi me lo sa? Dice, eh, io so tutto, perché crede di essere soldato lei a sapere tutto? Io le posso dire che oggi è il compleanno del presidente del Bari, e la prego, e la pregherei, di poter fare anche a nome mio, che sono un vecchio tifoso del Bari, gli auguri. Quanti anni compie? La stessa cosa mi hanno telefonato e mandato le mail, il club di Trani e anche quelli della Bari, siamo noi, per fare... Ha detto, ma avete anticipato? Vabbè, ma c'è trucco, scusami, avevi già preparato il foglio, avevi già preparato il foglio? Eh, io ho già preparato questo, l'avevo detto, ho detto, guarda, lei mi ha anticipato... A meno che non ti porti nel tassi la stampante. No, perché ero convinto che l'avessero scritto l'altro, di che capo, pure in questo mi fregano. Quanti anni compie, paparesta, oggi? Qua, 47, 47 anni. E un giovane presidente, anche se... Anche perché io ho fatto un conto, anche con lui stamattina, quando gli ho fatto gli auguri, che è della stessa razza, dello stesso anno, del buon Antonio Conte. Speriamo che gli stessi successi che ha avuto Conte, perché ne sta avendo, anche il fatto di essere stato chiamato in Inghilterra, è un, come dire, un fatto possibile. Solo che Conte è nato a luglio, credo. Comunque poi... A luglio. A luglio, a luglio. Allora, poi c'è anche un amico comune, giornalista, che è il buon Massimiliano Ancona, della Gazzetta dello Sport, che è nato a giugno del 69. A giugno del 69. Non riesco a vedere. Va bene, il nostro amico lo salutiamo. Poi nel 69 siamo andati sulla luna, poi non so se è vero, siamo andati sulla luna. Siamo andati su... Boh! Chi può dirlo, chi può dirlo. Va bene. Allora, come sempre, iniziamo con le parole della vigilia di questa partita, che è da dentro o fuori. È stato questo il titolo... Anzi, lo possiamo anticipare il titolo del nuovo galletto, così diamo il tema della giornata? Questo è il titolo del nuovo galletto, guardalo. Dentro o fuori? Il resto non c'è. Vabbè, vabbè, non è un titolo drammatico. È normale, è normale, è normale. Allora, andiamo adesso invece ad ascoltare cosa ha detto Camplone alla vigilia del Mese. Dovrebbe esserci anche Paparesta, che ieri è spuntato. A parte Paparesta, mi dice Cristina Siciliano. Allora, cominciamo con Camplone, poi andiamo a sentire il presidente. È l'ultimo bio, sicuramente. Dipende da noi, se poi è l'ultimo, se sarà l'ultimo, poi no. È una partita da dentro o fuori, quindi va giocata con la giusta mentalità. Sicuramente non c'è bisogno di caricarla più di tanto, credo, visto l'importanza di questa partita. Veniamo da 42 partite, la squadra ha fatto un campionato intero, l'abbiamo già affrontati, sappiamo quali sono le potenzialità del Novara, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Sicuramente non dobbiamo ripetere le prestazioni delle ultime partite, a livello mentale. Sicuramente, non so se ha troppa voglia di vincere, ha troppa voglia di strafare, ma abbiamo lasciato troppo in fianco agli avversari e ci hanno punito. Se fai questo con il Novara, sei morto. Quindi lo sappiamo benissimo. Abbiamo cercato di parlare un po' di questi due giorni, per le cose che non sono andate, la squadra è consapevole di quello che ha fatto, ed è anche consapevole che si gioca un anno di lavoro. Amici, sono tutti forti, se andiamo a vedere la griglia è quella, quelle che hanno dato tanto, forse Lentella meritava anche, però non è riuscita a raggiungerlo, però è una delle squadre che ha dei giocatori importanti, e penso che davanti hanno dei giocatori forti, che possano sbloccare la partita in qualsiasi momento. Guarda, non ci stiamo pensando neanche a questo, perché se pensiamo di poter gestire, siamo morti secondo me. Partiamo a 50-50, secondo me, e poi vediamo quello che succede. Normale che dobbiamo essere bravi noi e non far gasare una squadra che sulla carta è molto forte. 50-50, dice Camplone. Sì, della verità, stamattina l'ho vista di nuovo, questa intervista, l'ha trasmessa alla rubrica di Cristian Siciliani, e vabbè, io l'unica cosa che vorrei, come dire, non c'è bisogno di spronare Camplone, ma voglio dirti questo, caro mio buon Enzo, guarda un po', se noi possiamo mostrare la classifica finale dell'anno scorso, se gentilmente Federico me la fa vedere, eccola qua. Guarda, il Perugia, allenato da Camplone, aveva 66 punti, ed era sesto, il Pescara 61, ed era settimo, e ci fu la prima partita di qualificazione, o meglio, preliminare, che fu a Perugia, Perugia-Pescara 1-2. Il Perugia andò in vantaggio con il terzino, poi si fece non solo raggiungere, ma anche superare, sia pure su rigore, dal Pescara. Questo deve essere un campanello di allarme, più che di allarme, di rivincita, per quanto riguarda Camplone, al quale praticamente, dovrebbe essere anche grato a Paparesta, e fare il regalo a Paparesta, nel giorno del suo compleanno. Beh, del resto, scusami Gianni. Ragazzi, noi ce la dobbiamo mettere tutta, non esiste, non esiste quella sbagliata, quella stava stanco, o ce la facciamo, o niente, o ce la, giustamente hai fatto il titolo, come hai fatto l'antico? Dentro o fuori. O dentro o fuori. o dentro o fuori. Cerchiamo di essere dentro, almeno per un'altra mezza settimana. Senza andare troppo lontani, è successo anche ieri, che la squadra, che stava peggio in classifica, ha fatto lo scherzo al Cesena. Ma, vedi, qui bisogna stare attenti. Però siccome è già successo ieri, non si vede oggi. No, voglio dirti questo. Qui, io ho sempre seguito i play-off. Diversi anni fa, non mi ricordo una squadra, a due giornate dalla fine, sicura di partecipare ai play-off, si fece squalificare tutti i giocatori, quelli che erano ammoniti, quelli che avevano la diffida. Io non vorrei che il fatto che la Spezia è andata sul campo del Come e se ne è fatto prendere quattro, ha ricevuto in casa l'Ascoli e ha fatto zero a zero, non è stato un motivo di, come dire, di relax. Volontario, 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 volontario. E oggi si sono, perché ieri sera questi hanno smaragliato. Hanno risparmiato energie per il momento giusto. Eh, questi che, noi, ma io non lo so. Del resto, come ho detto sempre, il calcio è la miniere dell'imprefettibilità. Però, però se non corri, sarà tutto in Serie B. o avete visto che cosa abbiamo ammirato nel derby di Rega Pro, Semi Pro, come si chiama quella là, la ex Serie C fra Foggia e Lecce. E caro mio, scappavano a 200 all'ora, altro che. E questa è l'unica preoccupazione mia per stasera, è proprio la velocità anche dei tre, non sono dei fenomeni, Gonzales, quell'altro, ma sono dei velocisti, velocisti. pubblicità, poi torniamo insieme. Pregoci insieme col Biancherrosso TV Sport e con Gianni Antonucci, ma siamo in compagnia perché è inevitabile, col Novara sul cammino del Bari, pensare a Raffaele Rubino, uno che ha fatto la storia del Novara, una bandiera di quella società, ha stabilito anche dei record straordinari, adesso è osservatore per conto del Bari, è tornato a darci una mano, l'avremmo voluto anche da calciatore, ma i destini non si sono mai incrociati. Raffaele, Raffaele ha anche un record insieme con due giocatori del Bari, pensa che il Bari si vantava di avere due giocatori, uno era ed è Mazzone, perché? E l'altro è stato Voros, perché questi due giocatori? perché sono due giocatori che hanno giocato con la stessa squadra, con la stessa maglia, quarta serie, serie C, serie B e serie A. Rubini ha imitato, guarda a caso, due giocatori della squadra dove lui praticamente è cresciuto, ha la stessa maniera con il Novara, serie D, serie C, serie B e serie A. Questo è un primato nazionale, che naturalmente ora viene riconosciuto maggiormente a Rubino che è più recente, mentre quella degli anni 50 e degli anni 60 di Voros... Passò un po' sotto traccia, passò un po' sotto traccia. Salutiamo Raffaele, ciao Raffaele! Grazie, buonasera a tutti, Senti, ma non ti fa strano che giochino proprio contro Bari e Novara per questi premiari di pre-off? Ma, tra tutte dalla partita meno indicata per me, quella che mi aspettavo meno, perché contavo il Novara fuori dai pre-off. Sarebbe stato per me molto più semplice, non pensavo che riuscissero all'ultima giornata a rientrarci, e vabbè, è andata così. Ma ti hanno chiamato alcuni tuoi vecchi tifosi del Novara per sforzarti un po' in queste ore, o no? Ma, sì, però mi conoscono bene, sanno che io quando entro in partita non ho più amici, quindi così è per me anche oggi. Mi hanno sforzato, ma in maniera molto leggera. Io quando mettevo le scappe da calcio non avevo più amici, e così è oggi per me. Senti, a proposito di tuoi ex amici, hai sentito anche González, col quale hai fatto coppia d'attacco a Novara? Paolo ci sentiamo spesso, con Paolo, con Ludi, sono giocatori con cui ho mantenuto da posto perché sono più longevi in quel club, e sono sorpresi anche loro perché sapevano di avere delle buone chance, stanno bene, sono entrati così all'ultimo, quindi hanno fatto festa, anche troppo, speriamo. Anche troppo speriamo. Loro arrivano un po', come dire, con la testa leggera perché comunque, come hai detto tu, stavano per perdere il play-off e li hanno centrati. Per quello che conosci del Novara, cosa abbiamo da temere? Fremorre stando che il Bari in questo momento deve temere più se stesso perché dovrebbe giocare decisamente meglio di quanto non abbia fatto col Trapani e col Cagliari, ma da un punto di vista dell'avversario, qual è la qualità che riconosci al Novara? Riconosco una squadra che se è in partita subisce pochi gol ed è molto brava nelle dipartenze, quindi le sue doti sono essenzialmente queste, perché con Gonzales se mai fosse in giornata ha nella sua dota, nella sua velocità un qualcosa in più e quel giocatore può spaccare un po' le gare che sfrutta un po' il suo dinamismo per le dipartenze, per i contropiedi. questa è un po' l'arma a doppio taglio che hanno perché a volte peccano anche, si allungano e rischiano anche loro di subire qualcosa, però questa è stata la loro forza tutto l'anno e l'hanno dimostrata anche nell'ultima partita col Modena che mi hanno detto che non ha fatto una grande prestazione però è stata una partita in discesa insomma nonostante tutto il Modena ha fatto la sua grande gara ma il Novara in contropiede anche lì ha portato a casa un risultato anche se oggi in teoria il Novara dovrebbe fare la partita perché gioca su un solo risultato cioè la vittoria e il Bari invece può accontentarsi del pareggio anche se con la prospettiva dei supplementari da giocare è difficile fare calcoli insomma già lo è normalmente nei 90 minuti immagino quanto lo sia nei 120 non so se siete d'accordo ma Enzo io deduzo che tutti voi abbiate visto la partita ieri sera alla fine è passata una squadra che non aveva il vantaggio del campo cioè lo Spezia quindi fare queste considerazioni in un playoff io le lascio lì a chi le commenta perché io le ho vissuti più volte i playoff e alla fine conta quale giocatore le ha mai giocati conta come vengono preparati mentalmente dal singolo giocatore al di là della squadra come il gruppo le affronta queste partite perché quando esci da quel tunnel e sai che è l'ultima gara chi non è pronto comincia a avere il fiatone le gambe corte tante sensazioni che non si possono commentare o giudicare prima durante la settimana quindi bisogna essere a maggior ragione uomini prima ancora che calciatori in quel momento in queste circostanze qua sì uomini alta concentrazione ieri la partita è stata risolta da tre calci piazzata quindi alta concentrazione alta preparazione grande personalità hai detto tutto guarda credo che tu abbia riassunto l'essenza dei playoff ci hai dato quell'immagine di chi non ha queste caratteristiche e che uscito dal tunnel per entrare in campo ci arriva con l'affanno col fiatone e arriva con le gambe che tremano ci hai dato un'immagine molto importante cioè oggi o vai per spaccare tutto oppure meglio che te ne stai che rimani nello spogliatoio mi pare che questa sia la sintesi del Rubino Pensiero ma volevo dire a Raffaele che come ti ho ripetuto tante altre volte il mio cruccio è quello di non averti potuto inserire tra i tre grandi Raffaele della storia del Bari Raffaele Costantino Raffaele del Reuccio Raffaele Rossini e io avrei voluto Raffaele Rubino speriamo di poterti quantomeno considerare considerare grande come aiuto e come collaboratore del Bari 2000 grazie a me sarebbe piaciuto tanto e spero che ciò che non mi è stato regalato diciamo così da calciatore spero che mi venga concesso da dirigente nel post calcio quindi quest'anno ci ho messo un massimo impegno e vediamo speriamo che i risultati ci aiutano a lavorare sempre meglio grazie Raffaele Rubino un abbraccio Raffaele ciao ciao un abbraccio allora senti Gianni prima di andare avanti so che tu hai oggi da spendere due parole di più sull'arbitro quindi se Federico semplice ci mette la fotografia di Maresca di Napoli ho sentito l'inchiesta fatta dai due giovani che collaborano con noi e mi ha impressionato veramente che la gente di Bari non solo è competente quando capisce alcuni particolari però io vorrei sottolineare una cosa dopo la partita con il Trapani il presidente Bavareste non ha fatto nessun riferimento di critica agli arbitri o all'arbitro ha detto soltanto che il regolamento prevede che fuori dall'area di rigore non è rigore e il regolamento prevede che quando c'è un rigore e lo commette il giocatore il giocatore quantomeno va col cartellino giallo questa è la verità ora queste due cose hanno inficiato in un certo senso anche la partita del Trapani ora questo arbitro che si chiama Maresca ed è napoletano tu hai detto uno dei migliori in questo momento uno degli emergenti senza altro a parte che non ce ne stanno tanti bravi in giro ma io posso dirti una sola cosa che questo è stato anche protagonista esattamente venerdì scorso questo è stato ha fatto il quarto uomo ha fatto ed è stato lui da quello che mi è stato detto che ha segnalato quel rigore che con il coro non ha fatto ora questo qua tu immagini abbiamo vinto soltanto una volta a Varese ai tempi di di Torredde poi un pareggio l'anno scorso col Bologna e andò bene almeno ci andò bene e poi esattamente sei sconfitte e sei sconfitte e quindi poi ho aggiunto però Gianni scusa se ha fatto il quarto uomo è difficile ora ecco perché bisogna stare attenti perché se poi vogliono colpire il Bari perché qua hanno fatto fuori il Livorno hanno fatto fuori il Livorno non diciamo sti chiacchiere non diciamo stavo dicendo comunque non può essere maresca perché il quarto uomo il quarto uomo non può decidere su queste situazioni no decidere faccio le comunicazioni no no non è il quarto uomo va bene bravissimo speriamo che si riscatti senza favoritismi facendo l'obiettività in campo pubblicità poi di nuovo insieme pregoci insieme con il Bianchiorrosso TV Sport prima di andare avanti tra poco mostreremo Paparesta che ieri ha parlato a margine della conferenza stampa di Camplone volevo parlare di due altre iniziative prego la regia di trovare le immagini relative le ha già trovate la regia a il solito incontro di fine anno sportivo con l'associazione H Bari 2003 la squadra di Bari che disputa il campionato di basket in carrozzina nei prossimi giorni vi faremo vedere anche dei filmati molto molto belli qui abbiamo visto il presidente Gianni Romito e questo è l'incontro che ho avuto il piacere di moderare per ringraziare non solo gli atleti che parliamo dei disabili fisici e dei disabili mentali che attraverso il basket davvero vivono un'esperienza importante per la loro vita ma è stato anche un momento giusto per ringraziare gli operatori per ringraziare i tecnici per ringraziare anche i sostenitori di questi ragazzi perché ci sono dei sostenitori importanti che permettono che questa attività si perpetri nel tempo e qui alcune immagini registrate ieri presso la sala dell'ex provincia torniamo insieme e volevo segnalarvi un altro appuntamento sabato prossimo sabato 28 maggio alle ore 9 presso sala Castello in piazza Leone a Bitritto c'è un interessante convegno sul tema l'obesità infantile prevenzione ruolo e scelta dello sport quindi ha a che fare anche in qualche modo con lo sport lo organizza l'associazione culturale sport e benessere e nutrizione insieme all'associazione culturale controvento tra i relatori c'è il dottor Accettura medicina dello sport il chirurgo nostro amico il professor Besozzi e tanti altri specialisti c'è anche Paganetti storico medico del Bari il dottor Paganetti il moderatore e il professor Gianfranco Sborgia che so essere anche tuo amico il responsabile sanitario il professor Vidalberto Cuomo questa è la locandina di questo incontro torneremo a parlarne nei prossimi giorni allora Paparesta lo vogliamo sentire? certo qua era la vigilia del suo compleanno era ieri giusto? no ma in pari che ieri sera l'ho sentito a TG3 mi sembra vediamo vediamo sentiamo che ha detto io penso una volta un passo alla volta e penso positivo e spero che chiunque voglia bene a questa squadra abbia a cuore questa squadra e i nostri tifosi so che lo fanno pensino positivo come lo penso io e che siano accanto a noi per un cammino che ormai è corto sono 15 giorni 15 giorni che possono essere decisivi per i calciatori per la tifoseria per la città per tutto perché il salto di qualità dalla serie B alla serie A è un salto di enorme però abbiamo la possibilità noi stiamo qua per giocarci ci sono aziende come la loro che tanto ci crede che ha investito in questo progetto per le prossime partite quindi a parte le battute a parte tutto il resto la squadra io la società i partner commerciali pensano in maniera positiva e vogliono andare avanti è questo quello che noi vogliamo è questo che la tifoseria vuole la tifoseria vera poi è chiaro che c'è sempre qualcuno che per interessi forse personali o per invidia o per gelosia o per altro può darsi ma non è tifoso ma non è tifoso non è tifoso ci mancherebbe ognuno fa quello che vuole soprattutto se ha altre finalità le nostre finalità sono solo quelle di dare soddisfazioni alla nostra tifoseria alla nostra città ai nostri partner commerciali e oggi presentando questo avvinamento stiamo dimostrando come di persone positive che ci credono e che vogliono affiancare il Bari ce ne sono e quindi il ringraziamento oggi va alla famiglia De Gennaro alla Dai Optical per quello che hanno creduto in questo progetto ed è uno sponsor a tempo nel senso uno sponsor legato strettamente ai speriamo bene speriamo bene abbiamo dei precedenti Gianni dobbiamo mostrare qualcosa ancora? dobbiamo vedere i precedenti di Bari e Novara a Bari vediamo un po' vai sono 21 13 vittorie del Bari 6 pareggi e 2 sole sconfitte in casa con il Novara uno negli anni 30 e l'altro è stato ora recentemente con Torrente e basta questa è una delle prime questa è una classica rovesciata del compianto romano in una partita pareggiata in casa con il Novara questa invece è finalmente una bella la famosa vittoria 3 a 1 con due reti di Catalano e una di Cicogna che però tanto fu l'emozione per poter dire così essersi salvati con i 6 punti di penalizzazione che il buon e compianto Onofrio Fosco allenatore ebbe l'infarto ebbe l'infarto dopo questa partita poi queste sono le più recenti che le vediamo già a colori naturalmente noi dovremmo senz'altro missare possibilmente non dico nel punteggio ma l'ultimo successo del campionato della rimonta ed esattamente che era fine maggio 14 cioè due anni fa e questo è l'ultimo gol che segnò Beltrame tutto qui Gianni togli una curiosità che tradizione ha il Bari in queste partite da dentro fuori cioè gli spareggi in sostanza c'è una tradizione c'è un numero statistico eh perché mi fai una domanda disgraziata non doveva farla no perché ci sono state esattamente questa è la 45esima partita di qualificazione per il Bari nella sua lunga storia però naturalmente io considero faccio un esempio con quella più recente e anche quella penultima che è si tratta di una stagione quella del 13-14 che portò a tre partite quella con il Crotone e poi le due con il Latina e le ho sempre sommate da un punto di vista di stagione sono state dieci stagioni che il Bari ha avuto l'opportunità l'occasione il merito il demerito di arrivare a questi spareggi dieci tre volte è andata bene sette volte no questa è la cosa che non volevo dire ma io spero che sia almeno la quarta che vada bene perché noi abbiamo vinto la famosa partita spareggio a Bologna con il Brescia nel 1932 poi abbiamo vinto abbiamo vinto quelle quelle con il Colleferro con la finale a Napoli con la finale a Napoli con il Colleferro e poi l'ultima l'ultima si può dire è del 1958 il doppio il doppio successo contro il Verona prima Bologna però abbiamo vinto anche a Crotone una partita da dentro fuori no io parlo di generale parlo di tutto perché anche in altre partite con il Venezia faccio un esempio in casa vincemmo ma poi perdiamo 2 a 0 io dicevo da un punto di vista di risultato finale di ottenimento di un appiazzamento allora io volevo ricordare qualche altro dato ad ora quando andiamo in diretta sono passate da dieci minuti alle quindici sono stati venduti 20.000 biglietti questi sono i biglietti venduti siccome non ci sono abbonati non si andrà verso i 30.000 però si potrebbe andare intorno ai 25.000 spettatori che sono un numero comunque importante probabile formazione del Bari in porta Micai i due laterali Defendi e Gemiti in mezzo di Cesare e Tonucci a centrocampo dovrebbero giocare invece Valiani Romizzi e Dezzi in avanti Rosina Maniero e Sansone ma al di là di chi scende o non scende in campo ricordatevi cari giocatori del Bari che oggi dopo aver visto le feste degli altri un po' di festa vorremmo farlo posso fare un appello posso fare un appello ragazzi io non chiedo mai la luna nel pozzo fate il regalo innanzitutto a voi stessi ve lo fate ad una grande città ad una città di tiposi veri a un presidente che oggi compie 47 anni e ad un allenatore ad un allenatore che deve riscattare quello che l'anno scorso di questi giorni subì con il preliminare dei pay off fatelo se siete capaci di farlo e per farlo dovete correre 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 ricordo il novantunesimo minuto oggi appena finisce la partita quindi saremo presenti allo stadio San Nicola e poi insomma speriamo 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 bene speriamo bene partita difficile delicatissima come tutte le partite da dentro o fuori perché lo diceva bene Rubino i vantaggi giochi in casa hai il vantaggio di due risorse non contano se non stai bene se non stai bene anzi paradossalmente giocare in casa diventa anche peggio eh le precedenti non le facciamo quali precedenti? l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta non faccio le precedenti va bene noi vogliamo in qualche modo eh non per scaramanzia perché fino a un cittadino Galletto e il Bari speriamo insomma se va bene lo portiamo prima di ogni partita dei playoff d'accordo facciamo così? ma magari io subito lo sottoscrivo lo portiamo anche a casa io l'unica cosa che ti stavo chiedendo allora non era il precedente che abbiamo visto i precedenti dei cinque gol di questo campionato che abbiamo segnato tra Bari e Novara non è possibile poi lo aggiorniamo facciamolo il sesto facciamo il sesto domani grazie vive il Bari vive il Galletto ci ritroviamo domani con il Bianchi e Rosso TV Sport ciao